Anticipazioni Beautiful Domenica 22 dicembre 2019 Katie e Torn in camera da letto si coccolano e parlano della cena con Bill e Will. Il ragazzino è rimasto a dormire dal padre e a lei non può che fare piacere tutto questo. Averlo portato in tribunale ha cambiato molte cose e sicuramente in bene. Katie inoltre ringrazia il consorte per la comprensione che dimostra verso Will. E ciò soprattutto in questo periodo, ora che il padre è tornato a essere presente nella sua vita, sta facendo di tutto per farla entrare sempre di più. Bill naturalmente sta prendendo sempre più piede in questa situazione, ma lei ci tiene a precisare che non ha doppi fini nei suoi confronti. Torna è felice di vedere il piccolo di nuovo sereno con il suo vero papà, ma ultimamente ha notato una cosa, che anche lei apprezza un po' troppo il cambiamento dell'ex marito. Forse lo ama ancora? Non ha mai smesso di amarlo? Katie visibilmente a disagio giura a Torna che non vorrebbe un compagno diverso da lui. I due così si abbandonano alla passione e poi si scambiano altre confidenze. Torna ammette che dopo aver perso Darla e Ali, ha capito che nessuna promessa di amore eterno può mai essere garantita. E che si è fatto sfuggire tanti momenti importanti che avrebbe potuto dedicare a loro. Ora ha una persona speciale accanto, eppure sente la paura di poterla perdere molto presto. Lei però gli promette che nessuno potrà mai sostituirlo e che non la perderà mai. Lei però gli promette che nessuno potrà mai sostituirlo e che non la perderà mai.